Bene, ma io direi che siamo anche live, mi sa di sì. Ok. Buonasera a tutti, io sono Roberto Reale, associazione Utopian, e stasera abbiamo con noi per la seconda volta, devo dire, del nostro ciclo restart, Antonio Pavolini, autore recentissimo di un libro appunto che è uscito qualche... Quando? Due mesi fa, Antonio? Ma è uscito ai primi di dicembre. Ai primi di dicembre, sì, sono già due mesi ormai. Un libro che si intitola significativamente Unframing e che ci parla del ruolo che hanno i media nella definizione dell'agenda pubblica, ma anche di tante altre cose. Antonio, tu bacchettami tranquillamente se ho detto... No, no, per ora stai andando benissimo. Ok. Bene, Antonio non ha bisogno di tante presentazioni, comunque molto nell'ambiente. Parare ti presenterai anche un po' tu, ma comunque un analista dell'universo dei media di rilevanza, direi senza piageria internazionale ormai, perché so che ti si legge anche, ti si segue anche fuori dall'Italia, però ormai cittadino romano a tutti gli effetti. Dico questo perché dopo su Roma faremo una piccola parentesi alla fine del nostro intervento. Bene, Antonio, io ti lascio la parola per dirci anzitutto da cosa appunto è nata l'idea di scrivere un libro di questo tipo. Ma allora diciamo che Unframing è un libro che esce cinque anni dopo il libro precedente, Oltre il rumore, che si è un po' caratterizzato per essere un libro, diciamo, divertente, perché racconta tutte le inadeguatezze, parlo del libro precedente, tutto quello che ha reso un po' buffo il tentativo disperato dell'industria dei media di agganciare in qualche modo la transizione digitale, anche rallentarla, rallentarla attraverso un racconto abbastanza disarticolato e comunque tecno-pessimista, a volte neoluddista, che però si bescolava in realtà al tentativo di fare qualcosa di digitale a tutti i costi, che puntualmente somigliava molto ai tentativi di Bill Coyote di prendere B-Bip per quanto riguarda l'esito, finivano quasi sempre in un burrone perché ragionavano in modo antico, vecchio. Quindi tutta questa parte un po' folcloristica adesso ce la siamo lasciata alle spalle. Unframing in realtà, il libro dopo arriva cinque anni dopo, in cinque anni sono cambiate molte cose, nel senso che l'industria dei media principali, quindi giornali, radio, tv, dico principali, non a caso, ha capito intanto qual è un ruolo che nessuno li toglierà mai, che è il ruolo dell'editore. Io uso nel libro molto il termine intermediatore culturale, ma di questo sto parlando, le persone che sono in grado di stabilire che cosa è rilevante per noi. Perché questo accade? Accade perché, il libro un po' lo racconta, le piattaforme digitali continuano a fare soldi a palate senza dover anche accollarsi le responsabilità di un ruolo editoriale. Abbiamo visto i risultati finanziari di Facebook cresciuto nell'ultimo trimestre, mi sembra, più del 50%. Adesso non vorrei sbagliare, o comunque, scusa, questo 50% va spalmato su tutti e quattro i quarter. Comunque stiamo parlando di una crescita di ricavi che nessun'altra azienda, soprattutto di queste dimensioni, ha al mondo. E tutto questo senza minimamente fare nulla che somiglia al lavoro di un editore. Quindi, fondamentalmente, quello che sta succedendo e che il libro cerca di fotografare è un momento diverso, nuovo, in cui i media si stanno ripartendo i compiti. La vecchia industria, se mi perdoni questo termine, che non vuole affatto essere dispregiativo, stabilisce di che cosa si parlerà ovunque, anche sui social media. I social media fanno soldi a palate semplicemente organizzando, nel modo più efficiente possibile, questo racconto, per quello che è il modello economico delle piattaforme digitali, che è un modello tutto fondato su una serie di prerequisiti. la velocità, il fatto di rimanere agganciati dentro la piattaforma, di rimanere prigionieri in un mondo chiuso, anche se saremmo in un mondo aperto, internet riescono a tenerti in un mondo chiuso. Quindi, da un lato, c'è soltanto un grande sforzo di un grande technology enabler, di un abilitatore tecnologico che rende incredibilmente efficiente, che cosa? La capacità di far circolare in un luogo chiuso i temi che però sono ancora stabiliti altrove. Tutto questo ha una conseguenza però terribile, e il libro lo dice bene nella prima parte, che è la parse destruence, diciamo, di unframing. Il problema è che se i media, che alcuni decenni fa ancora, si facevano concorrenza tra loro anche attraverso la qualità del prodotto, un prodotto ragionato, un prodotto che serviva a dare alle persone strumenti per interpretare la realtà, diciamo, già la televisione avevasse stato un colpo durissimo a questa idea romantica del giornalismo che informa veramente le persone per ciò che è davvero rilevante per gli interessi delle persone. Con l'arrivo di internet che succede? Che il vecchio mondo si è convinto, anche se ha le stampelle, la sedia a rotelle, quello che vuoi, dover correre alla stessa velocità di tanti Usain Bolt che sono le piattaforme digitali. In più lo fanno anche con la tipica sconsideratezza, la disperazione di chi si sente una industria morente. È come una bestia ferita che sta per morire e quindi l'unica mossa, diciamo, l'unica azione, le azioni che svolge, le decisioni anche che prende sono neanche tattiche, sono, mirano alla semplice sopravvivenza che poi purtroppo però non è la sopravvivenza dell'industria, è la sopravvivenza professionale degli stessi che prendono le decisioni nei grandi gruppi editoriali che hanno tutti più di 50-60 anni e quindi fondamentalmente tendono ad arrivare alla pensione o comunque a costruire una rendita diciamo nella propria terza vita culturale che avranno scrivendo libri, facendosi ospitare in televisione, eccetera, però tutto il grande esercito dei veri lavoratori che sarebbero come dire le persone su cui contare per invertire questo trend non prendono nessuna decisione e loro dovrebbero veramente avere un futuro ma il futuro non sta lì in quel tipo di giornalismo della bestia ferita, sta altrove. Io su questo, Antonio, volevo soffermarvi un attimo perché tu nel libro fai un interessante richiamo anche al rapporto tra un po' la classe dirigente dei grandi media di cui stiamo parlando e la proprietà degli stessi e richiami appunto l'esempio di Cairo che emblematico va appunto o per meglio dire dichiara che stava andando appunto al Corriere per chiudere il giornale accanto a Fontana che è un atteggiamento un po' direi un po' padronale anche un po' paternalistico nei confronti dei dipendenti dell'azienda però in ogni caso ci mostra anche che il rapporto appunto tra il capitale che controlla che controlla appunto le grandi testate e chi invece queste testate le dirige non è così limpido non è così chiaro guarda allora siamo forse ad una fase ulteriore nuova rispetto alla fase diciamo del padrone in redazione che condizionava la linea editoriale del giornale di cui si lamentava Montanelli ve lo ricordate negli anni 70 80 quando per esempio lasciò il giornale fondò la voce perché sentiva il fiato di Berlusconi che fondamentalmente gli dava la linea editoriale non siamo più in quel periodo in cui c'è da difendere l'interesse del per esempio del palazzinaro o cioè adesso ci sono anche in Italia insomma dei casi di giornali che parlano abbastanza chiaramente se riesci a leggerli del business di chi domina il CDA ma non è tanto questo il punto adesso siamo in una nuova fase in cui quasi tutte le diciamo i grandi conglomerati mediatici hanno un assetto societario dove comunque l'asset non duplicabile sono sempre i ricavi pubblicitari nel caso di Cairo noi abbiamo per esempio anche un giornale rispettabilissimo e che vende fa individualmente se lo guardiamo individualmente il Corriere della Sera è un giornale che vende perché ci sono persone che pagano quei pochi euro per comprarlo e questo all'interno del business model del giornale è ancora superiore rispetto alle entrate pubblicitarie questo dicono i bilanci ma i bilanci vanno visti in tutto il gruppo editoriale e la cultura che viene espressa da tutto il gruppo editoriale è quella pubblicitaria perché i grandi flussi di ricavi vengono dalla sette e comunque dalla raccolta pubblicitaria di tutti i media outlet diciamo che stanno dentro quel gruppo editoriale questo che significa che la cultura pubblicitaria deborda completamente anche nel mondo nel modo di ragionare del quotidiano del quotidiano che difende romanticamente la sua indipendenza eccetera però poi c'è l'episodio appunto di Cairo che entra non dico via solferino perché non è più fisicamente lì che si svolge però insomma nell'immaginario di chi ascolta il racconto ti immagini te lo immagini perché secondo me non è affatto mai accaduto che Cairo vada vicino a Fontana e gli dica guarda fai così la prima pagina perché così vendiamo più riso senza lattosio vendiamo più come immagine è potente è un'immagine potente non racconta il vero assolutamente ma è una storia che viene raccontata guarda caso da Cairo in un video motivazionale ai venditori di pubblicità e allora capisci che il business di quell'azienda è vendere spazi pubblicitari e far cadere i nostri occhi in luoghi chiusi poi Antonio permettimi noi parliamo di pubblicità e di contenuti non pubblicitari come se fossero due cose diverse ma di fatto non è così è più un continuum nel senso che c'è tutta una serie di legami tra i giornali e ad esempio i grandi gruppi industriali o insomma i clienti dei giornali stessi che genera contenuti che non sono in modo esplicito pubblicità ma non sono anche giornalismo neutro e terzo rispetto agli interessi rappresentati ma sono come dire testi e contenuti che sponsorizzano determinate di tutto il fenomeno in tutte le gradazioni e tutti i nomi che sono stati dati a queste operazioni editoriali parla più oltre il rumore di unframing unframing non entra nel dettaglio di che cosa è corporate generated content che cos'è native advertising che cos'è corporate storytelling che cos'è un caro vecchio pubblico redazionale e che cos'è invece una marchetta cioè io non volevo usare la parola questa è la parola diciamo che pensavamo di aver messo in soffitta con la legge Merlin invece riemerge questa appartiene da sempre al mondo dell'eitoria non neanche necessariamente italiana cioè semplicemente ci sono delle aree oscure dove quando si rilassa l'attenzione sulla credibilità sull'indipendenza di una qualsiasi realtà editoriale rispetto a chi la finanzia per un motivo o per l'altro banalmente perché è un inserzionista beh allora questo lasciatemi dire dai reprint delle copertine di certi mensili di informatica degli anni 90 che venivano poi ordinati dal cliente perché c'era il manager ecco cioè una volta che tu accetti questo o accetti la recensione del prodotto accanto alla pubblicità vuol dire proprio dire alle persone ragazzi non dateci più fastidio tutto sommato nel momento in cui noi stiamo facendo comunicazione aziendale senza dirlo vi stiamo informando forse meglio di quello che farebbe il giornalista indipendente tra l'altro in certi casi questo è persino vero nel senso che ci sono esiste il cosiddetto brand journalism dove tu scopri magari delle notizie che riguardano la vita di un'azienda e lo scopri meglio di quello che farebbe anche il più diciamo garibaldino dei reporter pensiamo a any report non vi ricordate la puntata di report in cui si parlava dei business un po' strani di any io le vere notizie lì le ho sentite da any anche senza che loro volessero basta leggere i bilanci volendo o le comunicazioni investiture si arriva a uno dei suggerimenti che io do nel libro per aggirare poi ci arriveremo tutto questo fenomeno che è quello di andare alle fonti dirette se noi impariamo a usare internet per saper leggere i dati grezzi e le fonti dirette anche banalmente il comunicato stampa la conferenza stampa in streaming che ormai è la regola se le persone cominciano ad attrezzarsi con ciò che il dualismo ufficio stampa e public relations dall'altra parte non riesce a risolvere ecco che in piccolo noi cominciamo a fare una piccola rivoluzione prima che l'industria da sola riesca a remunerarsi in modo un po' più onesto e trasparente comunque tu nel libro insisti molto appunto sulla necessità per chi vuole capire questi fenomeni di leggere la struttura finanziaria dell'industria perché è lì no? sì sì allora non pretendo che adesso conosciamo i componenti del CDA di tutti i grandi gruppi editoriali però io credo che sia opportuno avere un minimo di vigilanza generica su farsi la famosa domanda sempre che non è che non è tanto centrata quando apriamo un giornale su questa cosa è vera oppure è falsa ma è ma perché si sta parlando di questa cosa e non di quest'altra passare quindi dall'idea della fake news all'idea della fake relevance ne abbiamo già parlato in un seminario un webinar proprio qui con voi mentre ancora stavo scrivendo il libro i danni che può fare il fatto di non parlare di ciò che è rilevante per le persone e i vantaggi che ne possono derivare per degli stakeholder magari per il gruppo editoriale di queste scelte cioè la scelta di parlare di una cosa o non parlarne affatto sono molto maggiori dei danni del vero falso dell'altra diciamo antinomia perché quando comunque ci si confronta sul vero e sul falso esiste un dibattito su un tema e quindi tutti in qualche modo anche se distorto rovinato dall'infotainment però tutti stiamo parlando che so per esempio dei migranti si parla ok è dominato completamente quel tema da un livello di distorsione che ci fa credere che in Italia ci sia il 23% degli immigrati rispetto al 9% come dice il rapporto della carta di Roma di un paio di anni fa che è inquietante però comunque di quel tema si parla allora però il problema è che a quel punto non siamo più in un problema di agenda setting siamo in un problema di framing cioè il tema è anche magari quello giusto ma si racconta attraverso la cornice che ci allontana dalla realtà invece di avvicinarci alla realtà ma noi come prima di arrivare alla pars costruenza del tuo libro come possiamo renderci innanzitutto conto del fatto che questo fenomeno appunto del framing esiste vuoi farci qualche esempio io posso fare qualche esempio perché tanto anche se il libro è uscito ormai due mesi fa ma anche negli ultimi due mesi sono successe succedono vernicamente delle cose che ti fanno capire come si sta magari parlando di qualcosa di rilevante ma lo si inquadra in un modo che è completamente fuorviante vediamo se riesco a condividere uno schermo ecco questo non so se lo vedete sì sì lo vediamo benissimo ok questo è un articolo con cui di del Corriere la Sera che è stato segnalato da Fabio Chiusi che è un altro l'altro anzi direi un finissimo osservatore del del problema di questo problema delle fast news della fake relevance allora il tema TikTok capisco che c'è la notizia del giorno perché c'è stato un danno reale ai danni insomma di un minore che stava emulando sicuramente una un comportamento autolesionista poi di fatto beh su questo però credo che non abbiamo ancora la certezza vero? no non c'è assolutamente questa certezza però nel momento in cui si stava parlando di questo chiaramente si era scatenata una un attacco trasversale che ormai è una specie di riflesso condizionato nei confronti delle piattaforme come se il problema fosse sempre tecnico ma noi peraltro su questo appunto siccome volevamo vederci un po' più chiaro abbiamo fatto un incontro con il garante della privacy con Guido con Guido Scorsa martedì quindi due giorni fa e devo dire insomma che il tema almeno da quel punto di vista non era tanto TikTok o diciamo la vicenda di Corona Canera in sé ma più una questione probabilmente regolatoria e di uso di uno strumento normativo per intervenire verso le piattaforme che è sacrosanto il problema è che chi legge questo titolo pensa che TikTok ammazzi i ragazzini perché morire a dieci anni per TikTok e poi però andiamo a vedere non c'è neanche bisogno di dire ok c'è un articolo che prova a girarcelo in un certo modo no scopriamo andando a leggere poi il pezzo vero e proprio vediamo se riesco a trovarlo perché qui devo spostare eccolo qua mi vedete lo vedete sì sì praticamente molto chiaramente se uno poi ha superato il vero ostacolo economico cioè cliccare sull'articolo poi se leggi l'articolo che poi in questo caso quello che stiamo vedendo è la versione stampata comunque il meccanismo era lo stesso anche chiaramente sul sito del corriere che in realtà non c'è assolutamente questo legame tra tecnologia e fatto estremo e adesso scusate non riesco forse a vedere il punto il punto decisivo però adesso questo era un esempio no ma è molto chiaro il contenuto il contenuto del dell'articolo che smettisce il titolo perché il momento economicamente remunerante è il clic diciamo sul titolo così come quando si pensa di costruire un un frame intorno a come la pensa il papa sui sui social media ancora una volta il titolo è smascherare le fake news stiamo attenti alle insidie all'insidie del web però poi se noi vediamo il titolo e il nome è completamente diverso proprio intanto il titolo contiene un virgolettato che dice una cosa e poi il vero virgolettato dice l'esatto contrario sì sì virgolettati come dire di fantasia quello del titolo è un virgolettato di fantasia ma intanto perché è stato scelto proprio quello perché nell'immaginario collettivo è stato tale il rumore sull'idea che le fake news siano un fenomeno nato con internet che ormai si dà per scontato che sia legato all'insidia del web ma papa francesco poi si parla anche dei problemi di internet che ci sono perché internet non è certo il paradiso terrestre però parla soprattutto della mancanza di professionalità dei media e la cosa buffa è che per riportare il suo punto di vista si ricorre esattamente al comportamento di cui papa francesco si lamenta a ragione o a torto non importa però il meccanismo è abbastanza puoi mostrare anche quel trafiletto che so che non si vedeva l'immagine era fissa invece sull'articolo appunto su tiktok lo so il papa mi sa che allora ci provo adesso lo vedete eccolo eccolo qua qui si vede il titolo in home con il virgolettato di papa francesco smascherare le fake news attenti all'insidia del web e poi il virgolettato dice tutt'altro cioè bacchetta proprio il mestiere dell'intermediatore che dovrebbe impedire per esempio al web di fare danni perché nel web non c'è sempre la professionalità necessaria per riportare verificare cioè non c'è nessuna garanzia il problema della disintermediazione papa francesco è come se dicesse guardate voi state lì apposta per risolverlo cioè la vostra professionalità è quella il vostro ruolo nella società è quella e non è un ruolo solo legato a un modello economico è legato ad una missione che ritenete di dover indossare e che poi ad ogni piesso spinto alla minima occasione pubblica dite che è esattamente quella missione che vi distingue dal caos di vero o falso che troviamo su internet invece la cosa drammatica che vediamo è che quotidianamente questo tipo di giornalismo paradossalmente imita internet cioè se internet cerca di fregarti di fenomeni più gravi phishing qualsiasi cosa per riuscire a farti fare click da qualche parte e poi magari è una truffa beh purtroppo il giornalismo che dice di chiamarsi così troppo spesso almeno nella sua parte free e magari anche su questo dovremmo arrivare troppo spesso copia il peggio del web contro cui si scaglie ma quello che io mi chiedo Antonio il problema è veramente nella disintermediazione o invece in un'azione di intermediazione da parte di soggetti che però non sono più interessati a fare quel mestiere quindi a selezionare la notizia a garantire la fonte e così via ma sono interessati come dici tu soltanto non solo sono interessati sono interessatissimi a fare quel mestiere il problema è che non sono remunerati non gli viene pagato lo stipendio per scrivere per trovare storie veramente rilevanti per le persone io parlando dei soggetti intendevo poi appunto i media in sé quindi la grande testata appunto rincorre come abbiamo visto rincorre il titolo che fa click diciamo che non è la value proposition nel libro io ripercorro come siamo arrivati diciamo da fenomeni molto virtuosi come per esempio l'inchiesta sul Watergate dei primi anni 70 come siamo arrivati da lì fino a a un giornalismo che pretende ancora richiamarsi così di dare lezioni ai reporter improvvisati del web quando vanno ai festival tipo il festival del giornalismo a creare questa dicotomia assolutamente falsa e poi tra l'altro la cosa fantastica di questo momento di degenerazione in cui siamo arrivati adesso è che quando poi parlano tra di loro tra detti e lavori e si chiedono ma qual è il futuro nessuno di loro dice che il futuro è la qualità e tornare a un giornalismo utile per le persone la risposta spesso è diventiamo sempre più bravi narratori dimentichiamo di fare informazione diciamo così una informazione asciutta perché l'informazione asciutta ormai ha perso viene sconfitta nella guerra per l'attenzione dalle mille piattaforme che ci assediano e quindi noi dobbiamo con la narrazione come se fossimo tanti Netflix inventarci delle serie far fare alle persone un grande investimento emotivo e usare quindi le leve emotive e anche quindi va benissimo la docufiction o va bene come ha detto candidamente Maurizio Molinari il direttore di Repubblica a un recente incontro a cui ho assistito all'auditorium nel breve periodo in cui si poteva ancora andare agli eventi in presenza disse ma il futuro da quando arrivo io sto cercando di trasformare Repubblica in una specie di grande casa cinematografica in una major cinematografica quindi racconti che fanno leva sull'emotività sulle passioni delle persone dando quindi per scontato che siamo veramente tutti analfabeti funzionali ormai come venne fuori dalla famosa inchiesta di Tullio De Mauro e quindi non abbiamo assolutamente gli strumenti per capire la realtà se non c'è qualcuno che no non ci informa se non c'è qualcuno che ce la racconta come vuole lui io invece in giro vedo una grandissima sete di dati pensiamo ad esempio ai dati sul covid la regione Lombardia sono uno dei casi tra l'altro viviamo in un'epoca in cui un consigliere regionale si inginocchia davanti al presidente della regione per chiedere quella è narrazione non una narrazione sì quella è narrazione vuole essere fotografato in ginocchio certo certo è ovviamente quella è narrazione per lui cosa chiede chiede dati non chiede una risposta politica è paradossale questa questa cosa no allora la grande sete di dati c'è da parte delle persone come dice bene Mario Teleschini Lalli che conosce molto bene questi meccanismi all'interno dei giornali oggi internet fa un sacco di cose che prima facevano i giornali e che non si sono mai chiamati giornalismo cioè tu su internet senza minimamente preoccuparsi preoccuparti del fatto che sia giornale oppure no vai a caccia cerchi di capire oggi che è giovedì sera se domani il Lazio sarà una zona gialla e quindi potrai andare al ristorante e questa informazione diciamo di servizio e per anni noi queste cose le abbiamo sapute il cinema cosa c'è in città se domani è bel tempo se c'è trap tutta una serie di informazioni grezze quindi dati grezzi per anni questo compito è stato assolto dal giornale e anche se forse non c'era molta enfasi su questo fatto noi compravamo il giornale soprattutto per questo perché non adesso in Italia ci sono state delle splendide inchieste anche negli anni dopo il Watergate quello che sto dicendo non è che lo giornalismo l'inchiesta è sparito e che non c'è più motivo per comprare il giornale per esempio se uno pervicacemente ha una tale tensione democratica da voler capire come è cascato il DC9 Italia nei pressi di Usti che è tutto quello che è successo dietro si leggeva tutta l'inchiesta che è durata mesi di Andrea Purgatori che era fatta benissimo finanziava solo un giornale se lo doveva permettere ma quanti veramente cioè quella quella fonte di ricavi lì cioè le persone compravano il giornale perché c'era il Vivi Milano dentro perché c'erano delle cose che ti aiutavano cioè era veramente un compagno di vita ok quindi allora la sete di dati di oggi è la versione velocizzata e diciamo resa ancora più intelligente dal fatto che sono dati non più statici ma sono dati che si possono elaborare correlare rappresentare in modo visivo e le persone hanno capito che possono fare questo tutto sommato anche senza che ci sia qualcuno che te lo confezioni all'interno o di un quotidiano o di una trasmissione televisiva per esempio faccio un altro esempio la capacità di confezionare i dati e darti poi una spiegazione puntuale di qualcosa di veramente difficile da capire l'abbiamo capita nel 2008 quando qualcuno fece l'infografica animata che spiegò la crisi del credito la crisi dei subprime io che di finanza vi assicuro capisco qualcosa di economia ma veramente poco di finanza ho finalmente capito dopo aver letto inutilmente a lungo i giornali italiani che cosa stava succedendo negli Stati Uniti guardando quei 3-4 minuti su YouTube ed era il 2008 quindi si parla già di 13 anni fa ecco quello è il momento in cui ho capito che arrovellarci sulla parola giornalismo che cos'è un giornale per non parlare poi dell'appartenenza a un ordine che è un altro livello diciamo di assurdità nella polemica non aveva più alcun senso non aveva più alcun senso perché se lo strumento per capire la realtà era appunto la capacità vedi lì c'era una narrazione perché il dato chiaramente è stato narrato in un'animazione ma era una narrazione onesta anche perché poi tutti i dati erano scaricabili cioè andavi sul sito di chi aveva fatto l'infografica e ti potevi scaricare tutti i dati volendo ok quindi c'erano proprio intere nuove figure professionali e adesso ci sono delle agenzie come Data Ninja per esempio per fare un nome di un'eccellenza italiana che possono darti strumenti per capire quello che succede in questo paese è infinitamente più utili di qualsiasi prima pagina home di quotidiano online ma sono d'accordo e il punto è che secondo me questo tipo di informazione è anche il mercato non soltanto il mercato specialistico non soltanto appunto il tecnico che si interessa che ne sa di statistica ma mi sembra magari mi sbaglio però mi sembra di sentire invece una voglia di dati da parte di tutti naturalmente di dati resi leggibili non di dati grezzi ci mancherebbe però io qui vedo una grande resi leggibili però sempre con la possibilità che si possano scaricare e rielaborare da terze parti di statistica una volta che hai questo tu puoi anche avere il tuo garante che ti dice avendo lui l'intelligenza di usare il dato grezzo guarda che qui la narrazione è bacata ok però sono tutte cose che stanno fuori da una redazione in questo momento cioè magari ci stiamo inventando il public editor con vent'anni di ritardo visto che negli Stati Uniti li stanno mandando a casa ci stiamo inventando le figure di garanzia del lettore perché così appunto pensiamo di marcare la distanza rispetto a questo mondo infernale che è internet ma la verità è che internet c'ha un mondo che non è infernale e dove le persone trovano le risposte perché perché è possibile imparare a verificare le notizie ecco questa è la cosa che manca cominciare a fare noi quello che i giornalisti fanno sempre di meno e quindi io verrei a questo punto la pass costurance perché nel momento in cui noi abbiamo capito che il giornalismo non può più essere quello che sta provando ad essere parlo di giornalismo come industria quindi intendiamoci non appunto i giornalisti che naturalmente come dicevamo magari sarebbero le persone migliori tu nella tua appunto nella seconda parte del tuo libro dai una serie di indicazioni no quindi anzi di via d'uscita come le chiami vogliamo vederle brevemente tu suggerisci anche nuove pratiche come insomma l'analismo internazionale podcast e così via peraltro scusa mi prometto una piccolissima io vi sono capitato su questo non so non so quanti chi ci ascolta insomma capiranno di cosa parliamo ma l'account github del guardian perché il guardian ha appunto un un suo profilo su github che è una piattaforma di collaborazione usata da appunto un po' da programmatori informatici di software libero in tutto il mondo e il guardian ha un appunto un profilo su questa piattaforma sul quale condivide praticamente tutto il software che usa per il suo sito per l'app di 10 garanti nel senso che siccome il guardian si fonda anche su il sui piccoli finanziamenti di gruppi di singoli lettori o gruppi di lettori che si associano magari un gruppo di lettori potrebbe tra virgolette remunerare un consulente che va lì e cerca di capire se un'infografica è stata fatta in modo corretto ma non solo ma chiunque e lo fanno può contribuire ad esempio al codice sorgente del sito web o dell'app perché è tutta la logica del public source siamo tutti fruitori e anche tutti però io non la vedo questa è un'operazione separata dal guardian come prodotto editoriale mi sembra che siano due parti dello stesso organismo sì sì in questo caso in questo caso il guardian che è forse la più ambiziosa delle operazioni di questo tipo perché perché non hanno mai provato a fare il paywall magari ti chiedono soldi sempre ogni due minuti e va benissimo però però perdonatemi anche quando scolpiamo le community radio americane negli anni 60 ogni due brani jazz ti dicono partecipa alla funding drive cioè fa parte della cultura loro non si sentono assediati quello sostituisce la pubblicità sostituisce il riso senza lattosio che non è granché meno molesto ecco allora lo fa wikipedia lo fa internet archive lo fanno tutti e adesso la vera domanda da fare ma sta funzionando il guardian in questo modo sta andando bene economicamente la risposta è no perché hanno dovuto mandare a casa un'enorme quantità di corrispondenti anche per poter cioè le figure più costose dentro la dentro la struttura editorial garden che a parte venivano percepite come appartenenti da un vecchio mondo molte le hanno dovute tagliare però hanno assunto i data editor che sono figure che hanno una dignità ormai persino superiore a quella del redattore e quindi da loro quello che noi chiamiamo data journalism perché loro hanno cominciato a fare 15 anni fa da loro è un tema organizzativo e strutturale non è oddio che bello facciamo l'infografica carina per dire la notizia che noi abbiamo già in testa cerchiamo i dati che ci servono per far vedere che succede questa cosa perché ancora in Italia è molto così nelle testate io ho anche la fortuna di conoscere alcune delle persone che lavorano alle parti grafiche dei quotidiani e che per fortuna hanno così tanti anni di esperienza da poter alzarsi e dire no io questa porcata non la faccio però succede che ci sia la volontà di raccontare attraverso i dati che sono come stendere la candeggina sull'operazione di voler raccontare comunque storie precostituite e questo ha generato soprattutto in Italia una grande prima ondata di disillusione sul data journalism nel libro io riporto una amara dichiarazione di Elisabetta Tolagan alle persone che insomma ci ha lavorato più seriamente e che dimostra come ormai si sta andando già verso una specie di riflusso come vedi rivisto alla fine non funzionano i dati e torniamo a fare diciamo docu fiction di testo o di audio o di video quando per esempio le grandi grandi up editoriali investono molto in digitale come ha fatto Repubblica creando Jedi Digital che tra l'altro fa anche degli splendidi lavori però è sempre più nella direzione della narrazione di grandissimo lusso come nel caso del podcast Veleno per esempio che è un capolavoro di narrazione però è sempre meno giornalismo è sempre scusate è sempre meno informazione è sempre più narrazione così come Repubblica cosa fa? Sguinsaglia i suoi più grandi narratori i grandi festival che diciamo spopolano le nostre piazze soprattutto d'estate manda i vari Saviano bravissimi cioè gente veramente a cui bisognerebbe togliersi il cappello per quello che hanno fatto anche dal punto di vista giornalistico lo stesso da Milano ma alla fine loro stessi cosa fanno? Fanno cose che chiamano loro stessi spettacoli teatrali cioè sono sono dei tour ma tutto questo va bene perché è giusto che un gruppo editoriale scenda in mezzo alla gente e parli alle persone però non deve diventare l'alibi per smettere di fare informazione cioè bisognerebbe anche rendere desiderabile qualcos'altro è vero che oggi non è nemmeno desiderabile perché negli ultimi trent'anni il pubblico della televisione ha quasi dimenticato la necessità di essere informati ok però un compito secondo me dell'industria editoriale in questo momento del paese sarebbe anche quello di rendere desiderabile ciò che oggi non lo è se diciamo che il marketing è anche creare desideri quando non ci sono ok allora facciamo marketing a proposito di infografiche Antonio io so che suoniai una in serbo per noi beh allora effettivamente è comprensibile come il serbo così ho fatto anche questa infografica sperimentale questa terribile battuta non so se la vedete va spiegata ed è il frutto di intanto un regalo di due amici molto competenti su questo tema che sono Paolo Gliabichino e Michele Boroni che hanno scritto su Lead and Read che è un sito dove si trovano molte recensioni di libri che loro considerano interessanti ho avuto la fortuna di essere recensito da loro e ogni recensione all'interno ha questo regalo che è una rappresentazione grafica che loro chiamano data book realizzata da una delle più grandi data visualization artist a livello internazionale che è Giorgia Lupi cosa ha fatto Giorgia Lupi ha creato intanto diciamo una una leggenda uno schema un codice per dare una rappresentazione visiva dopo aver fatto un'analisi semantica di tutto il libro quindi quello che vediamo qui anche se non sembra però sono più o meno tutte le parole più importanti del libro e poi ci sono alcune parole in particolare che sono delle antinomie per esempio quando vedete questi tutto questo io l'ho imparato nell'ultima settimana quindi ne sto parlando con grande disinvoltura ma in realtà io stesso ancora devo capire un po' però quello che vedete per esempio quando trovate questi triangoli arancioni e triangoli rossi è la frequente ricorrenza dell'antinomia tra il concetto di disintermediazione e il concetto di intermediazione che ricorre continuamente quasi sempre insieme alla parola cultura che sono questi rombi neri che sono forse il simbolo che trovate più spesso nello schema e quindi probabilmente anche la parola che io uso di più il fatto che io parli tantissimo di cultura in un libro che sembrerebbe affrontare il tema dell'informazione del giornalismo non è casuale perché io trovo molto nel mondo dell'arte della cultura e dei musei tante anticipazioni anche delle soluzioni al problema dell'informazione infatti io appunto questa questa infografica la vedo anche come un po' una una transizione ad un secondo tema che però è una conseguenza di appunto forse di un tema di fondo del tuo libro quindi appunto la presenza della parola cultura ma anche la necessità di fare cultura e naturalmente il giornalismo può e deve fare cultura non è naturalmente però l'unico a doverlo o a poterlo fare e il problema forse è un po' più ampio no? Sì guarda a un certo punto il libro apre la sua parte diciamo costruttiva la sua seconda parte con una improvvisa digressione nel mondo dell'arte dei musei della cultura e non è casuale perché il primo tentativo che io faccio per capire dove sono le soluzioni è spiegare che il fenomeno che noi oggi vediamo così gravemente davanti ai nostri occhi cioè del del giornalismo che non fa più il suo mestiere è solo una piccola parte di un fenomeno più ampio che ricomprende tutte le categorie di intermediatori culturali non solo i giornalisti anche i direttori dei musei anche chi prepara il palinsesto di una di un'emittente televisiva o radiofonica addirittura chi confeziona i pacchetti turistici l'intermediatore culturale è la figura centrale della di quella che eh chiamiamo eh l'industria creativa eh e c'è una sorta di grido d'allarme che è del tutto trasversale a tutte queste figure e che appunto descrive l'unicità di questo fenomeno che io ho sentito la prima volta al festival del giornalismo culturale a Pesaro circa tre anni fa dove teni un intervento e notai questa rincorrenza ma qui noi non serviamo più siamo nessuno ci si fila più nessuno ascolta i nostri eh i nostri suggerimenti nessuno segue i nostri programmi i nostri palinsesti non siamo più capaci di stabilire che cosa è rilevante per le persone eh allora questa crisi ehm il meccanismo economico che determina questa crisi cioè la ricerca del spasmodica sempre solo dell'attenzione delle persone perché è lì che si fa la concorrenza perché l'attenzione è rimasta l'ultima risorsa scarsa noi la ritroviamo pari pari così come esiste nel giornalismo anche nell'arte anche vivendo in una grande città le grandissime mostre cannibalizzano tutto il resto che è una sorta di bad company che si fonda sul volontariato no? le piccole mostre i piccoli eventi i piccoli musei eccetera siccome si sa che non sono redditizi e sono un mondo di radical chic che campano d'altro allora la vera industria dell'arte è soprattutto un'industria e poi il fatto che ci sia di mezzo l'arte del tutto secondario non è un grido d'allarme lasciatemi dire solo di unframing io soprattutto in questi giorni grazie per esempio a un articolo di Serena di Giovanni che ho letto proprio stamattina scopro che che questo tema di come il mondo del curatore per esempio di un museo curatore di mostre va sempre più a caccia comunque del grande evento perché è l'unico che giustifica quell'investimento che fa quadrare i conti quindi per esempio a Roma tu per un certo periodo il fatto che ci siano due ore di coda per entrare a vedere la mostra di Raffaello alle scuderie del Quirinale è proprio il disagio di quella condizione a vendere l'evento quindi è proprio la sua insostenibilità diciamo anche sociale non solo fisica a oggi diremmo anche sanitaria ma è proprio il fatto che poi alla fine è tutto omologato perché le persone che vanno a quella mostra sapranno di cosa parlare tra di loro quando si incontrano è quella la mostra dove bisogna essere stati per poterne parlare se hai visto qualcos'altro hai fatto qualcos'altro sei fuori anche dalle conversazioni ancora una volta quindi ancora una volta si spostano gli occhi gli interessi delle persone in luoghi chiusi educando le persone a ignorare i luoghi aperti quindi a ignorare la scoperta e la diversità c'è il primo capitolo della seconda parte di un framing che invece racconta una serie di musei alla rovescia o comunque di iniziative artistiche e culturali alla rovescia ma dopo tutto anche un po' all'industria tu giustamente la chiami la chiami industria dell'arte delle mostre ai suoi meccanismi di marketing i suoi fan tende a far convergere appunto il tema non è se debba essere remunerativo oppure no il tema è perché si pensa che debba essere remunerativo solo in un certo modo ma soprattutto come dicevamo prima di andare in diretta parlando se non sia un dovere di qualcuno finanziare ciò che oggi non è remunerativo in un settore che è considerato un bene pubblico come la cultura cultura bene comune si dice se non sia il caso di finanziare ciò che ancora non funziona con ciò che funziona adesso invece siamo al cannibalismo totale cioè ciò che funziona ha il preciso compito di far sparire tutto il resto e questo lasciatemi dire può andare bene se devi scegliere se mangiare un Big Mac o un Crispy McBacon o le polpette di pollo da Kentucky Fried Chicken non credo ci siano danni sociali se per caso vince uno e cannibalizza l'altro nel mondo dell'arte che invece si fonda il valore dell'arte nella diversità nella scoperta nello stupore nella serendipity diremmo se non riesce a valorizzare questo economicamente e nel libro invece io spiego che ci sono c'è la possibilità di valorizzarlo e anche come se non capisci questo tu non sei un operatore non sei un intermediatore culturale sei un uomo di marketing è diventato tutto marketing può andar bene ma non può finire lì su questo forse entriamo anche un po' in un terreno minato perché dopo tutto poi rischiamo anche di cadere nell'opposizione un po' di di e chi ha una memoria se può dire insomma tra apocalittici e integrati nel senso che stiamo gridando alla fine della cultura alta e ci stiamo scandalizzando nell'avvento invece di una cultura pop che rende tale anche magari le icone della cultura cosiddetta alta o invece dobbiamo imparare cosa che tu sai fare benissimo peraltro imparare a leggere invece i meccanismi con cui la cultura pop funziona e magari rendersi conto che Raffaello ormai è un è un'icona pop no? laddove invece se io organizzo il l'anno prima è stato il Caravaggio il Caravaggio ma è ovvio che se io organizzo la posta magari su ma sì però capisci bene che stiamo parlando di luoghi chiusi cioè andare a vedere Caravaggio alle scudere del equilinale e ignorare che ci sono quadri di Caravaggio in tutto il resto ma io guarda su questo poi con me sfondi una porta aperta perché io sono contro la musealizzazione per me la vera scopertà dell'arte è buono per viaggiare e andare magari in tutta Europa a ritrovare i pezzi le opere dell'artista magari quelle dei maestri degli epigoni e così via però chiaramente diventa un'attività che non è che è sostenibile per pochi appassionati per pochi che hanno i mezzi la cultura la possibilità di farlo il rischio non è appunto non è quindi stabilire un po' questa anzi inverare questa dicotomia tra la cultura appunto cosiddetta alta quella che noi insomma quella in cui magari noi ci riconosciamo e l'altra invece offerta così diciamo al popolo perdonami l'uso di questa di questa parola che è così quasi quasi come se fossero spettacoli da circo invece non è che ci chiudiamo in questa in questa dichotonia e non io penso penso che quel dibattito sugli apocalittici integrali che a parte è stato declinato in tantissime altre aree che non sono solo quella dell'arte della cultura io credo che la soluzione al quesito che mi poni tu l'ha già portata Nicolini quando organizzò per quasi dieci anni più di dieci anni l'estate l'estate romana che doveva essere appunto la cultura popolare cioè la cultura a disposizione di tutti ma guarda caso quello fu uno straordinario esperimento di diversità di diversificazione delle esperienze molte persone che non siano mai avvicinate alla cultura non si sono avvicinate per la pepita pop di della Venere del Botticelli ma per i tanti sassolini che hanno portato delle persone a ascoltare poesia la Basilica di Massenzio cosa che non avrebbero mai fatto cioè se tu riesci a portare diversificazione scoperta e coinvolgere ugualmente le grandi masse e lo fai con mezzi esclusivamente analogici hai già risolto quel dibattito cioè hai svolto ciò che un'amministrazione pubblica per esempio deve fare per dare alle persone poi chiavi diverse anche per decidere cosa comprare cosa remunerare economicamente perché se la premessa per prendere questa decisione è appunto l'ignoranza e quindi la moltiplicazione dell'omologazione perché se non hai altri strumenti per interpretare per esempio il mondo dell'arte è chiaro che andrai sempre a finire nei percorsi canalizzati se invece viene educato alla scoperta cosa che si può fare serenamente anche senza avere le risorse diciamo per andare a cercare tutti i quadri di Munch in giro per l'Europa non è questo diventare un po' tutti i psicogeografi diventare threshold travelers cioè persone che per esempio durante una pandemia capiscono che non potendo più viaggiare si può semplicemente guardare più in profondità ciò che è vicino a te andare a scoprire una borgata di Roma dove non saresti mai andato andare a scoprire la street art andare a scoprire che cosa fanno i ragazzi sotto il ponte della musica che non è vero che si bucano soltanto o che spacciano e consumano droga ma inventano nuovi linguaggi cioè andare a scoprire delle cose che in questo momento perdonatemi non fanno parte di nessun sistema economico allora se accade dal basso da solo se ci sono i walkabout di Carlo Infante le passeggiate le triste di Stalker come domenica ce ne sarà una al pre-nestino se ci sono queste cose e addirittura ormai internet permette un'incredibile diciamo moltiplicazione anche delle propaggini digitali e la documentazione digitale di tutto questo che accade francamente il dibattito echiano degli apocalipsi integrati mi sembra un po' superato ma quindi possiamo pensare anche a un viaggio un turismo anzi della vicinanza della prossimità assolutamente assolutamente prima ancora cioè forse il primo turismo dovremmo farlo dentro di noi e ogni volta chiederci quando una piattaforma uno schermo ci dice di che cosa dovremmo occuparci cose rilevanti noi dovremmo alzare lo sguardo un istante e dire ma perché sto vedendo questo è quello che veramente vorrei fare o voglio sempre qualcuno che mi dia la pappa pronta questo è uno dei suggerimenti del libro passare l'immagine della cittadella la cittadella interiore no la Marco Aurelio se vogliamo insomma quindi esattamente questa è una bellissima citazione perché perché lo scope tutti questi modelli attualmente in auge che nessuno prova minimamente a mettere in discussione si fondano sul principio che quello che noi facciamo nel mondo degli atomi quello materiale è suggerito da qualcosa che sta nel mondo dei bit ora il mondo dei bit è fondamentale ok ma invertendo il flusso cioè tu devi approfondire attraverso gli schermi gli spunti che ti dà la tua vita reale non dico sempre però dico provare almeno ad alternare l'esperienza normale che è ok faccio quello che mi dice lo schermo a un'esperienza diversa e metterle a confronto e capire che e capire che non possiamo vivere soltanto nel flusso passivo dobbiamo anche essere un po' tutti media activist come dice Gert Lovink nel suo famoso saggio per concludere a me sembra che ci sia anche un altro tema quasi un bordone che sta emergendo questa chiacchierata che è la presenza in tutto quello di cui parliamo e facciamo forse forse la presenza invadente di Roma di cui non possiamo da cui non riusciamo probabilmente ad allontanarci anche allontanandoci fisicamente in realtà restiamo presi sempre in questo un po' questo cerchio magico quest'orbita della capitale da cui appunto non riusciamo forse perché Roma è una città che espone le sue ferite cioè invece che provare a raccontarti una storia diversa tutto il tempo provare a raccontarti quello che vorrebbe essere e che non è cioè Roma è la città meno aspirazionale del mondo sotto questo profilo non prova ad essere Dubai non prova ad essere New York non prova ad essere nient'altro e somiglia solo a se stessa con questa campagna con le pecore che possono stannazzare intorno al Colosseo ed è perfettamente normale cioè forse per questo motivo anche con tutto quello che non funziona tutto quello che non va ci dà un'infinità di chiavi di uscita dalla crisi del contemporaneo che tante città che scimmiottano il contemporaneo non sono in grado di fare e noi su Roma poi Antonio ho la tua promessa che torneremo poi per un prossimo incontro a maggio vediamo è un po' dubbioso no no dubbioso perché io non sono uno studioso di Roma al massimo posso parlare di come i media la raccontano e perché la raccontano in un certo modo questo sì però appunto io sono semplicemente una persona che vive a Roma da 35 anni questo sì e che ha vissuto anche in tante altre città quindi un po' i termini di Patagonia ce li ho però non sono non sono un romanista dal punto di vista non calcistico come i poeti romanisti per intenderci no ma se vuoi appunto possiamo coinvolgere anche qualche altra voce però insomma noi ci teniamo ci teniamo tantissimo ad averti anche perché in realtà quello che dici non è vero nel senso che io non conosco conoscitori di Roma più profondi se vogliamo di te io ricordo sempre quando ci siamo conosciuti mi parlasti di una quasi uno spartiacque no che attraversa Roma tra il sud sud ovest c'è una base scientifica però sì 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 è vero che a destra e a sinistra di una certa linea si dice sogno e dall'altra parte si dice sogno gonna e dall'altra parte si dice gonna e questo già dice un bel po' di cose e che forse vorremmo cominciare a ragionare più di est e ovest piuttosto che di nord e sud come si fa sempre sì questo potrebbe diventare appunto un po' il punto di inizio della nostra prossima chiacchierata io però vorrei che se ce l'hai ci facessi vedere il libro perché eccolo posso dire che non è ancora come spero facilissimo reperirlo in libreria cioè va ordinato perché le prime copie che sono arrivate nelle librerie erano poche e alla fine una volta finite le copie in libreria è più facile ordinarlo tragicamente da Amazon o dagli altri book store italiani insomma è su più o meno tutti i book store se non vi sta simpatico Amazon per ragioni che ciascuno di noi può avere però sì è un libro che è uscito da poco non so ancora bene quante copie abbia venduto ve lo deve dire Nicola Cavalli che è il mio editore alla fine del mese però devo dire che se ne parla tra persone che non sono sempre necessariamente addetti ai lavori e questo comincia ad essere un primo motivo d'orgoglio perché l'obiettivo era anche un po' rompere quella di cornice quella autoriferenziale ma sono sicuro che sta avendo un ottimo riscontro io sono stato come dire un po' privilegiato ho potuto leggere la copia omaggio però secondo me tu hai letto anche dei pezzi che non erano ancora poi non sono andati in stampa dici? dici quando abbiamo fatto quell'altro incontro a luglio ti avevo mandato a lui io avevo in realtà solo l'abstrat però poi se è stato così gentile avevi l'abstrat anche l'emissione a copia omaggio che come ti ho detto io non ho divulgato non divulgherò quindi tanto ci stanno presentando i siti pirata dove già spopola però questo vuol dire che è successo è tragico dirlo ma succede per qualsiasi libro anche il più orrendo perché non è che stanno lì a valutare quelli buoni e quelli meno buoni ma non è vero io sono un frequentatore di quei siti va bene allora se mi dai pregiatissima garanzia di esperto di quei siti allora mi fido bene Antonio grazie grazie mille di essere stato con noi stasera grazie anche agli ascoltatori naturalmente che ci seguono e che ci seguiranno grazie a te Roberto è stato non è stato facile dopo Stefano Epifani dopo Leoluca Orlando dopo persone di questo calibro però continuerò a seguire Restart e Utopian perché è veramente un bellissimo progetto grazie mille peraltro volevo anticipare che a febbraio o a marzo probabilmente febbraio sul tema un po' fake news quindi torniamo un po' all'interpretazione tradizionale però avremo l'imam di Firenze che ci dirà un po' la sua ecco missione sulla cosa quindi magari sai come come persona appartenente è un gruppo che non sempre è messo in buona luce è un fenomeno comunque da esplorare anche quello se trova il modo di vendere riso senza lattosio sui giornali potrebbe anche riuscire a invertire la narrazione io lo suggerirevo bene grazie ancora Antonio buona serata a tutti buona serata ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti